gentili telespettatori buona giornata beh si è scoperto il perché luca morisi il lo spin doctor il guru social di matteo salvini ha dato le dimissioni si è allontanato beh è stato indagato dai magistrati per detenzione di droga e per cessione di droga tre ragazzi lo hanno trovati dai carabinieri con in macchina una bottiglia con un liquido che era droga dice c'è la data luca morisi il leader della lega dice quando un amico sbaglia e commette un errore che non ti aspetti e luca ha fatto male a se stesso più che ad altri prima ti arrabbi con lui è di brutto ma poi gli allunghi la mano per aiutarlo a rialzarsi amicizie lealtà per me sono la vita in questa foto avevamo qualche anno qualche chilo in meno voglio rivederti presto con quel sorriso ti voglio bene amico mio su di me potrai contare sempre e poi aggiunge se dovessi commentare le vicende private e personale di casa grillo saremmo ancora qua a parlare ma viene deriso un po dalla politica renzi dice non faremo a salvini quel che ha fatto a noi la dadone dice chi citofona adesso a casa di salvini vi ricordate salvini che aveva citofonata a bologna c'è qui uno spacciatore toninelli ad esempio dice beh si aveva qualcosa di stupefacente beh insomma io non avrei teso la mano se un tuo uomo di fiducia che ha un incarico così delicato viene trovato che cede droga gli è stata trovata droga anche a casa in una perquisizione dei carabinieri io non sarei stato tanto lì a dire caro amico ti voglio bene l'amicizia la lealtà ti tendo la mano ha fatto uno sbaglio beh insomma non si può non si può giustificare tutto con affatto uno sbaglio e insomma no no ci sono chiamiamoli sbagli che non sono perdonabili nel senso se io avessi un amico che fa una roba del genere non lo reputo più amico altro che amico mio sarò sempre con te a rialzarti almeno io la penso così ognuno la può pensare come vuole o forse un po tutte queste parole mielose di salvini una sorta di propaganda chi lo sa arrivederci a tutti e grazie